Buonasera, sono il dottor Tascione, sono qui con me ogni giorno a darvi informazioni sul cluster di Sant'Antonio a Lanciano. Per fortuna non ho decessi da comunicarvi, possiamo dire che per la prima volta abbiamo anche un maggior controllo di tutta la struttura, di tutti gli ospiti della struttura e a parte qualche paziente respiratorio che indubbiamente ci preoccupa e qualche paziente che chiaramente versava già in condizioni di criticità da sempre, la situazione diciamo ci dà un minimo di respiro. Abbiamo anche l'ausilio, devo dire di ringraziare il dottor Ricci, infettivologo, che ci procurerà dell'ossigeno liquido, del bombolo di ossigeno liquido per assistere sempre al meglio questi pazienti respiratori e abbiamo avuto anche un discreto approvvigionamento di farmaci fondamentali per la lotta al Covid. Per cui vorrei dare anche un po' di rassicurazione a tutti e vi auguro a tutti una buona serata.